Dunque abbiamo seguito fino a una tarda mattinata oggi proprio sulla nostra rete la cerimonia conclusiva della 25esima edizione del premio nazionale Paolo Borsellino per la legalità, per i diritti, con tanti protagonisti che sono stati accolti oggi a Pescara per ricevere i riconoscimenti della organizzazione guidata da Leo Nodari. Abbiamo in diretta la nostra Anna Di Giorgio che ha seguito tutta la mattinata insieme a Diego Martelli e ai colleghi che hanno curato la diretta. Allora Anna facciamo un po' un punto conclusivo su questa giornata che conclude anche l'edizione del 25ennale. Buongiorno. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì dicevi bene questa mattina è stata una lunga mattinata in cui abbiamo avuto modo di seguire proprio la cerimonia conclusiva della 25esima edizione del premio Borsellino. Insieme anche all'ausilio appunto della telecamera di Diego Martelli con cui abbiamo poi realizzato anche alcuni contributi filmati che tra poco vi mostreremo. 25esima edizione del premio dedicato appunto alla memoria di Paolo Borsellino che morì il 19 luglio del 1992 in quella che passò alla storia come la strage di Via D'Amelio. Questo premio che ormai è organizzato appunto da 25 anni vuole ricordare e Paolo Borsellino e naturalmente tutte le persone che hanno lottato contro le mafie perché a questo punto si può parlare davvero di varie mafie come è stato ricordato anche dalle persone che poi si sono avvicendate qui sul palcoscenico dell'auditorio Unflaiano ma soprattutto per premiare e riconoscere il dare dei riconoscimenti al lavoro svolto dalle persone appunto che lottano per la legalità per ribadire i valori di giustizia sociale e di democrazia che sono poi un po' i principi fondanti anche attorno a cui ruota tutto questo premio. Sono state tante le persone dicevamo che si sono avvicendate sul palcoscenico dell'auditorio Unflaiano che vedete appunto alle mie spalle dove si è svolta questa cerimonia conclusiva del premio che ha coinvolto come sempre moltissimo soprattutto le scuole perché proprio ai giovani che si vuole indirizzare questo messaggio di valori della legalità, della democrazia, della giustizia sociale perché come più volte è stato detto acerrimo, nemico delle mafie è proprio la scuola. Noi abbiamo realizzato alcuni contributi filmati di alcune persone che sono state appunto premiate questa mattina nella cerimonia che è stata presentata da Graziano Fabrizi e Francesca Martinelli e che è andata appunto anche in diretta sia in streaming che su Reteotto e allora alla regia Danilo Cinquino chiedo proprio di agevolare questi due contributi che abbiamo realizzato questa mattina con Carmelo Zuccaro che è il procuratore di Catania e Don Maurizio Patriciello che è parroco del Parco Rione Verde di Caivano. Sentiamo. Come è cambiata la mafia in tanti anni? Le mafie hanno una straordinaria capacità di adattarsi ai mutamenti sociali, ci sono settori tradizionali che perseguono sempre le istorsioni attraverso cui si esprime il controllo del territorio, le usure eccetera, ma poi per esempio i giochi online, espressione di modernità, di capacità di adattamento. La mafia sa cogliere quali sono tutti gli affari, le occasioni più lucrose e ci si mette dentro con una tenacia, una mancanza ovviamente di qualsiasi tipo di pregiudizio che li porta spesso a raggiungere dei risultati importanti. Il nostro dovere è quello di copire questi mutamenti sociali, questi mutamenti anche nel modo di procedere ma sono mutamenti che sono in realtà legati al fatto che la mafia ha una grande vocazione affaristica e imprenditoriale e in realtà la avuta sempre. Quando un tempo l'economia era dominata dall'agricoltura la mafia era profondamente presente nell'economia agricola. Adesso è ancora presente nell'economia agricola, è presente nella grande distribuzione, è presente soprattutto nel commercio dei prodotti ortofrutticoli ma è presente anche in tanti altri settori, di servizi essenziali, quello della raccolta dei rifiuti, i servizi sanitari. Sa essere sempre presente laddove ci sono profitti da ritrarre. Oggi con il piano nazionale il PNRR è particolarmente importante cercare di bloccarla, impedire che le risorse pubbliche vengano deviate verso interessi mafiosi. Il cittadino semplice, diciamo, cosa può fare in questa lotta quotidiana alle mafie? Può fare tutto, è determinante. L'attività giudiziaria ha un senso per combattere i fatti più evidenti ma la cultura, il far venire meno quelle forme di condizionamento, di assoggettamento, quello è soltanto il cittadino. Io dico il cittadino deve essere coerente nel fatto che non si può dire la mafia è brutta. La mafia si deve combattere rispingendo le scorciatoie, rispingendo l'eventuale ricorso a raccomandazioni, alla corruzione, dicendo no a tutto ciò che non ritiene giusto, che sia giusto per la società, per gli altri, non per se stesso. Don Maurizio Patricello, parroco del Parco Verde di Caevano, oggi ha ricevuto un premio, un premio che è un attestato a quanto fin qui fatto alla lotta contro la mafia. Come si può parlare oggi anche ai giovani con i quali lei opera, insomma, colloqui a tutti i giorni di mafia, questa realtà che è stato detto più volte sarà sconfitta con la cultura, con l'educazione? Come abbiamo fatto oggi? Abbiamo parlato con i ragazzi, ci sono stati testimoni, gli uomini delle istituzioni. L'unica risposta è veramente stare insieme. Il generale dei carabinieri ha bisogno di ascoltare il parco di un quartiere che sta là 24 ore al giorno a vivere quella situazione. Io ho bisogno di loro, i ragazzi hanno bisogno di noi. Loro non sono il futuro, a me non piace quando si dice che i ragazzi sono il futuro, loro sono il presente. Però per chiedere a loro di fare il loro dovere, cominciate alle piccole cose, dobbiamo assicurare i loro diritti. Quindi in questo momento qua il mio quartiere vive un momento difficilissimo. È stato ucciso un ragazzo, è stato ritrovato dopo 15 giorni dalla sua scomparsa. Domani mattina io dovrò benedire la salma alle 7 del mattino al Camposanto senza neanche il funerale. Ci aspettiamo un'altra risposta. Questa notte è stato incendiato un furgoncino di un'associazione. Tutto questo ancora ci inquieta. Siamo preoccupati, molto preoccupati. E come ho detto prima, il Parco Verde è un quartiere dove lo Stato, io ho detto, non c'è. Ma non c'è, non è che non ci sono i carabinieri. Attenzione, loro ci sono, ma sono così pochi che non ce la fanno a rispondere alla domanda del territorio. E poi lo Stato non è solamente le forze dell'ordine. È questa rete che si deve creare. Anna, abbiamo ascoltato alcuni dei contributi che hai registrato e che ci hai proposto. Ce ne sono anche altri perché avremo uno speciale questa sera alle ore 20.05. Sì, ci saranno anche altre voci che abbiamo ascoltato questa mattina. Persone che sono state premiate, che hanno avuto questi riconoscimenti nelle varie sezioni del premio che ha visto salire sul palcoscenico dell'Auditorio Unflaiano magistrati, avvocati, giudici, parloci, giornalisti ma anche semplicemente persone che lottano quotidianamente, appunto persone della società civile che lottano quotidianamente contro le mafie. Ci sarà questo speciale, ci sarà anche la tua trasmissione, Carmine, i fatti e le opinioni in cui avremo modo di ascoltare altre voci, altri protagonisti. Per chiudere questo intervento, Carmine, se posso vorrei salutare anche i telespettatori da casa con una citazione di Paolo Borsellino che disse «Parlate della mafia, parlatene alla radio, in tv, sui giornali, però parlatene perché se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente mafia svanirà come un incubo». Così, appunto, Paolo Borsellino che anche oggi è stato ricordato appunto nel corso di questa cerimonia finale della venticinquesima edizione del premio Borsellino. Se non hai domande ti restituisco la linea, Carlo. No, grazie Anna. Anche noi, come dicevi, teniamo fede a questo insegnamento di Paolo Borsellino facendo il nostro mestiere e il nostro dovere e a questo proposito, appunto, come anticipato, i protagonisti del venticinquesimo premio Borsellino saranno ospiti della nostra trasmissione settimanale «I fatti e le opinioni». Questa sera alle ore 22 nel nostro talk show interverranno Maria Grazia Mazzola, giornalista Rai, autrice di grandi inchieste sulla criminalità organizzata, vittima di un'aggressione da parte di una boss della Sacra Corona Unita, Don Aniello Manganiello, parroco di Scampia e Angelo Pellegrini, generale dei Carabinieri, che fu uno dei principali collaboratori di Giovanni Falcone, ospiti accompagnati da Graziano Fabrizi, docente tra i principali organizzatori del premio Borsellino. Appuntamento dunque ancora alle ore 22 e prima alle 20.05 con lo speciale di Anna Di Giorgio.